Allora dicevo che il vostro giudizio sarà quantificato in valore numerico da una giuria di esperti che ora vi vado a presentare. Sono anche già illuminatissimi, vero? La giuria? Eccoli qua, ve li presento. Allora, nel nuovo settore del bambù è anche impegnato in politica, è arrivato terzo a dicembre in questo teatro ai barzellettieri di Sardegna. Lui è Gabriele Porqueduli, facciamo un applauso. Lassuno lo vedete. Li conosco da tanti anni, a Porto Torres sento solo il loro nome. Loro sono i due fratelli, i Bazzoni Brothers, eccoli qua, Domenico e Alberto. Poi abbiamo attori di teatro della compagnia Paco Mustela, ex Sipario 78, vero? Un grande barzellettiere e un grandissimo falegname, Antonello Sanna. Per rappresentare il pubblico, un artista che anche nel suo lavoro, lo sai, giusto? In più è anche un grande organizzatore di eventi. Lui è Armando. Sono cresciuto insieme ai Battor Moritettos grazie alle sue trasmissioni, alla sua bravura. Lui per me è il presentatore numero uno in Sardegna, Giuliano Marongiu. Per rappresentare il Comune, a quale ringrazio anche per il patrocinio del Comune, per il teatro, Presidente della Giunta Comunale, Loredana De Marco. La ringrazio per aver accettato l'invito, una madrina d'eccezione per questa serata, Maria Giovanna Cherchi. Che dopo avremo sul palco.